Benvenuti nel canale Spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Tommaso Montesano è il figlio del noto attore romano Enrico Montesano, ma cosa sappiamo ancora di lui? I dettagli all'interno. Tommaso Montesano è il figlio del celebre attore e showman Enrico Montesano. In queste ore, sta facendo molto discutere il web un suo tweet in cui avrebbe sostanzialmente screditato l'esistenza della pandemia paragonando le Verdi Bergamo al lago della Duchessa nel sequestro Moro. Mentre divampa l'indignazione, e il direttore del quotidiano per cui scrive, Libero, ne ha chiesto il licenziamento, andiamo a conoscere meglio tutti i dettagli e le curiosità sulla vita privata e professionale del figlio d'arte. Leggi anche, striscia la notizia, Silvia Tofanin conduce con Ezio Greggio, come sta Enzo Iacchetti dopo il Covid? Chi è Tommaso Montesano? Biografia Tommaso Montesano è nato a Roma il 17 marzo del 1971, sotto il segno zodiacale dei pesci. A 51 anni, vita privata Tommaso Montesano è da sempre strettamente riservato in merito alla propria sfera privata. Nulla si sa, infatti, di lui, a parte che risulti regolarmente iscritto all'ordine dei giornalisti della regione Lazio dal 2004. Padre Tommaso Montesano non è un omonimo, suo padre è, infatti, proprio il famoso attore e sciomen Enrico Montesano, di recente finito al centro delle polemiche per una serie di video da lui postati sui social in cui si dichiarava contrario al vaccino per Covid-19. Enrico Montesano, Anza, Matteo Nardone fratelli e sorelle Tommaso Montesano è nato dal matrimonio fra Enrico Montesano e Tamara Moltresia. Tommaso è il secondo genito della coppia, prima di lui è venuta al mondo la vigna, successivamente invece Oliver. Giornalista e libero Tommaso Montesano è un giornalista di Libero. Dopo il cinguettio contro al Covid-19, comunque, il direttore del quotidiano, Alessandro Sallusti, ha richiesto immediatamente e pubblicamente il suo licenziamento. Con queste parole, Bergamo Tommaso Montesano è finito nella bufera, e rischia il suo posto di lavoro presso il quotidiano Libero, per un cinguettio in cui paragona, le Verdi Bergamo, al, Lago della Duchessa, nel sequestro Moro. Instagram Tommaso Montesano, figlio d'arte al centro delle polemiche per un tweet negazionista contro la pandemia, è su Instagram dove il suo profilo risulta però privato. Non è possibile, dunque, dare un'occhiata al suo feed a meno che non gli si invii una richiesta di follo che venga poi accettata dal proprietario dell'account. Qui il link diretto. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!